Erta Vernello contro All Blacks è una sfida da guardieri bassi della graduatoria nella serie cadetta della Champions Cup Amatori Classic. Il primo tentativo offensivo lo porta l'Erta Vernello con la conclusione da furi che stiamo per osservare e che impegna e non poco Giuseppe Sanna alla respinta. Da quest'altra parte Spiga parte velocissimo in contropiede mettendo il turbo pallone dall'altra parte per Tommaso Cardia che evita margini e poi regala il vantaggio a Riccardo Piceda che non può far altro che ringraziare il compagno di squadra. Botta e risposta immediata di Francesco, lasciali la palla Omar Giuliani ringrazia. 1-1 al Family Club e i Blancos nel finale di primo tempo troveranno anche la rete del 2-1 a realizzarla Alessandro Pretta. Nulla da fare nella circostanza per Sanna. Ripresa assolutamente spettacolare, calcio d'angolo battuto dagli All Blacks che genera però un contropiede da parte degli Erta Vernello. Con Pretta che porta palla, litiga un po' con il pallone che viene recuperato da Di Francesco. Il lancio lungo per Cardia che evita un avversario e poi col destro batte margini per il gol del 2-2. Margini protagonista in negativo sul calcio di punizione che abbiamo appena visto di Michele Cocco. Primo gol stagionale per il numero 8. La reazione da parte degli Erta Vernello è immediata. Pretta ci prova col tacco Sanna. Manda in calcio d'angolo. Ancora la formazione di Mattias Desi che prova a raggiungere il gol del pareggio lasciando però praterie nella prova metà campo. E allora parte ancora Tommaso Cardiac che da due passi non sbaglia. Per lui doppietta personale 4-2 per la formazione di Manda. Da quest'altra parte stupendo il gol da parte di Alessandro Pretta doppietta anche per lui e allo scadere Claudio Lotto con un precisissimo destro chiude il match. 5-3 per gli All Blacks che guardano al proseguito del campionato con maggior ottimismo.